Torna di attualità la questione del poligono di tiro di San Vittorino. L'argomento è stato oggetto di una commissione comunale alla quale erano presenti ASL, il Comitato per la tutela di San Vittorino, il Sindaco di Pizzoli Gianni Anastasi oltre consiglieri. Da tempo il Comitato ha messo sotto accusa il poligono giudicandolo dannoso per la salute ma l'argomento sarà oggetto anche di ulteriori incontri alla presenza dell'assessore allo sport Vito Colonna per capire se ci sarà possibilità di delocalizzare il poligono in un'area meno impattante. Il poligono ricade nell'area di Pizzoli. Il Sindaco Gianni Anastasio fa chiarezza ai microfoni di Rete 8. L'opinione del Comune di Pizzoli qual è? È quella di chi ha rilasciato un'autorizzazione legittimamente e che la vuole ovviamente difendere. Detto questo però riteniamo che poi vada tutelata sicuramente la salute dei cittadini e soprattutto va monitorato e controllato se comunque le attività vengono svolte nella maniera più corretta. Io questo l'ho detto in Commissione, lo ribadisco perché ritengo che sia giusto così. Dopodiché mi si chiede di provare a trovare delle soluzioni che possano migliorare questa condizione. Migliorare significa delocalizzare, portarla altrove? In realtà delocalizzare significa trovare anche il consenso di chi oggi gestisce questa attività, quindi è l'associazione che ne ha titolare, oppure provare a pensare a una soluzione che sia di natura più fisica, nel senso che i rumori come tanti altri problemi che esistono possono essere attenuati attraverso delle attività di installazione e anche delle barriere. Questo però ovviamente non è che dipende dal Comune, dipende dal Comune nel senso che il Comune si fa tramite, anche per conto di quei cittadini che si lamentano per poter trasmettere queste necessità. Dopodiché però è chiaro che l'associazione diventa una parte importante. Comunque si arriverà a discuterne probabilmente tutti quanti insieme ma alla luce del fatto che l'attività è assolutamente legittima, lo dimostrano le autorizzazioni e lo dimostrano anche le sendenze che fino ad oggi ci sono state che praticamente la legittimano per cui noi stiamo tranquilli sotto questo punto di vista, dopodiché la disponibilità è massima.